Micros 001 è un fissativo idrodiluibile a bassissime emissioni di VOC, trasparente e in odore, a base di particolari copolimeri acrilici in microemulsione acquosa. Nella particolare formulazione non vengono aggiunti solventi organici e plastificanti. Micros 001 fa parte della linea Green Vocation, finiture pensate per un'edilizia sostenibile e per prodotti dal basso impatto ambientale. Micros 001 viene usato come fissativo di superfici murali interne ed esterne, prima delle applicazioni dei prodotti di finitura. Le particelle polimeriche ultrafini conferiscono al prodotto caratteristiche di elevata penetrazione ed impregnazione del supporto. Micros 001 riduce e uniforma l'assorbimento del supporto, migliorando la facilità di applicazione e l'uniformità di tinta nelle mani successive dei prodotti di finitura. Micros 001v02,3275,526,5M Micros 001v02,527,527,537,530,531,534,530,531,530. Grazie a tutti.